Ciao a tutti ragazzi, io sono Demes e oggi vi presento Kerbal Space Program Allora, inizio subito dicendo che il Kerbal Space Program è un simulatore di volo nello spazio quindi avremo la possibilità di creare navicelle spaziali e quant'altro Ora, direi subito bando alle ciance e cominciamo subito col gameplay Allora, faccio un nuovo salvataggio, lo chiamo Demes Kerman Kerman è il cognome che in genere hanno tutti i personaggi di questo gioco Il game mode c'è il career mode dalla versione 22, che è questa che sto facendo altrimenti c'è la modalità sandbox che praticamente vi permette di avere sbloccate tutte le parti invece nella modalità carriera dovrete fare punti scienza per poter aumentare per avere un senso di progressione del gioco Il gioco è stato creato dalla squad, è un gioco bellissimo e ve lo consiglio Allora, cominciamo subito Queste sono le parti che avete disponibili e sono l'edificio di assemblaggio veicoli l'anger degli aeroplani dove potete creare aeroplani sia per aria che per lo spazio ma al momento non abbiamo parti per farli Il complesso degli astronauti, dove ci sono astronauti che potete ingaggiare come potete vedere, ce ne sono un bel po' però il semi parte in genere è già con tre quindi penso di tenere questi tre e vediamo dove arriviamo Vabbè, prendiamo un'altra dove va Ok Poi questo è il research and development sarebbe ricerca e costruzione e qui si appunto si creano le nuove parti e si studiano le nuove parti la prima parte che possiamo prendere è il rocketry di base sarebbe l'inizio di tutta la vostra cosa e bastano cinque punti scienza che al momento non abbiamo quindi dobbiamo fare almeno un volo per avere la scienza che ci serve quindi queste sono la tracking station praticamente la stazione dove potete comandare nel caso si hanno oggetti già nello spazio come potete vedere non ce ne sono nessuna e questo è il sistema solare perché questo si chiama appunto sole, sun quindi è il sole in base il pianeta è Kerbin quello che sarebbe l'equivalente terrestre poi c'è la moon che sarebbe la luna e penso sia il mio il nostro primo obiettivo anche se Minus potrebbe essere un po' più semplice anche se è un'orbita un po' più eccentrica rispetto alla luna però vediamo dove possiamo arrivare per primi allora cominciamo subito costruendo penso che questo o lo velocizzerò o non so allora questa è la capsula di comando poi qui ci sono il liquido scusate non liquido questo è il liquido il combustibile liquido e questo è il combustibile solido in teoria potrei mettere combustibile solido e farlo partire ma una volta fatto partire devo aspettare che finisca non si può spegnere mentre questo con un igniter un bruciatore sarebbe abbastanza però è un po' pochettino quindi facciamo così e così e mentre questo brucerà al 100% e non è regolabile quindi una volta che comincia a bruciare brucia quella quantità del 100% e fine questo posso aumentare e diminuire la quantità di combustibile bruciata che vuol dire che posso aumentare e diminuire la velocità mettiamogli un paracadute e un'antennina che posso girare con i tasti W ASD o ruotare con la quella E e con la shift potete invece fare in modo che sia dritto ora lo creiamo primo prima missione prima missione e scegliamo una flag diverso perché no vabbè lascianoci questa dai mi piace lo salviamo e oh qua c'è un errore di staging lo staging è come far partire insomma il il vostro mezzo e se io adesso facevo partire sarebbe partito sia il motore che il paracadute tutt'uno quindi aumento lo staging metto uno staging più e c'è il motore e c'è il cosa stop il paracadute a posto salviamo e lanciamo ora ora ovviamente il primo video è di introduzione quindi parlerò molto 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 e farò velocizzerò le parti più in avanti allora questa è la navball sarebbe la palla di navigazione c'è ovviamente anche qui e qui potete vedere che a 0 gradi corrisponde il nord 90 gradi l'est 180 gradi il sud e 270 gradi l'ovest quindi ovviamente tutti i gradi che ci sono sono insomma corrispondono a una direzione cardinale a un punto cardinale qui ci sono la quantità di carica elettrica 50 al momento e in base alle cose che faccio diminuisce il combustibile liquido e l'ossidante perché ovviamente in fisica la fisica ci dice che senza l'ossigeno non brucia nulla quindi serve l'ossigeno l'ossidante per il combustibile liquido il nostro astronauta è Gebedia o Gebedaia Kerman allora premo la T per attivare l'SIS che sarebbe il sistema di volo aiutato insomma e altro da dire qui c'è la 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 quantità di atmosfera quindi adesso siamo qui nella bassa parte d'atmosfera e qui ci sono le alte invece parti d'atmosfera ora aumentiamo con lo shift e con il control qui potete vedere che aumenta e diminuisce la quantità di di liquido che brucerò e però cominciamo subito facendo crew report 1.5 trasmetti perfetto perfetto ok motori al massimo e diciamo 3 2 1 via ora come potete vedere questo sale molto velocemente il che non è un bene lasciamo così così che ho velocità verticale ma non troppa perché a una determinata velocità si comincia ad avere resistenza contro l'aria il che non è una cosa positiva inoltre avere un insomma l'aria che ti spinge verso il basso e tu che con l'attrito perdi un sacco di velocità non è il massimo ora con questo staging non dovremmo non dovremmo arrivare molto lontano sto bruciando più di quello che vorrei e dovrei facciamo un altro crew report lo teniamo in teoria abbiamo già tutto quello che vorremmo e dovremmo avere e facciamo così questo lo mandiamo perché tanto è 3.5 e ne facciamo un altro e lo teniamo anzi mandiamo anche questo perché sempre ok quindi 18.000 3.5 questo lo teniamo molto velocemente facciamo un EV no 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 avvicinati avvicinati F perfetto ok questa è una cosa che ho rischiato di fare non si dovrebbe fare all'inizio ovvero il l'EVA sarebbe l'uscita dalla dalla capsula ovviamente adesso sto discendendo e non è la cosa più sensata da fare all'inizio anche perché sono nell'atmosfera quindi ho fatto una cosa molto pericolosa ho rischiato di morire o di far morire lui in genere adesso stiamo precipitando nell'atmosfera e una volta arrivati giù qui adesso penso che in post produzione vi faccio vedere cosa aumenterò la velocità ma cosa succede a 5000 metri farò lo staging e attiverò il paracadute non prima e a 500 metri il paracadute si dovrebbe aprire finendo così la 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 discesa insomma apriti sesamo perfetto ovviamente il paracadute non è ancora completamente aperto ma comunque fa un po' più di resistenza all'aria quindi diminuisce la velocità molto più velocemente rispetto a quello che dovrebbe e siamo quasi a terra quindi vediamo aspettiamo si vede l'ombra perfetto e si rompe quello si rompe quell'altro e quest'altro ok cuscinato la caduta quindi recuperiamo il veicolo e ho fatto 20 punti wow buono 20 punti nella prima missione è buonissimo quindi accettiamoli e andiamo a prendere i primi due le prime due cose quindi prendiamo questo e io direi di prendere anche questo ok per questo episodio è tutto ragazzi spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace anche se non vi è piaciuto mettete un mi piace no scherzo mi raccomando lasciate commenti perché ci fa piacere sappiamo cosa possiamo migliorare e cosa no e iscrivetevi al canale se volete avere una piccola notifica quando postiamo un video nuovo quindi da Dames è tutto ragazzi alla prossima ragazzi ciao ciao